Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Malacoda apriamo subito con la cronaca per le altre notizie di giornata vi rimando come sempre al nostro Tg andiamo in provincia di Prato dove è stata rilevata una discarica abusiva di scarti tessili nei campi vicini a Via Roma un sopralluogo è stato effettuato dalla polizia provinciale proprio questo pomeriggio nella zona agricola Faffontanelle e Castelnuovo lungo Via Roma questo sopralluogo appunto ha rilevato quanto riscontrato in alcune segnalazioni il comandante della polizia provinciale ha contattato una signora che aveva dichiarato alla stampa di non aver potuto parlare con gli agenti un caso quindi che si è protratto la polizia provinciale ricorda che per le segnalazioni c'è un numero apposito così come spiegato proprio dal comandante Pellegrini purtroppo il nostro corpo è composto solo da 11 agenti ha detto che operano ovviamente sul territorio ma sono sempre raggiungibili attraverso questo numero di cellulare per i dettagli di quanto riscontrato e rivenuto eventualmente nell'ispezione nei controlli vi rimando alle nostre altre nostri altri appuntamenti informativi è soltanto una segnalazione per un importante protocollo siglato da alcuni comuni nella Val di Sieve del Val d'Arno consapevoli di quanto il territorio che unisce Firenze ad Arezzo sia strategico per lo sviluppo dell'economia di tutta la regione 18 sindaci del Val d'Arno Aretino e Fiorentino della Val di Sieve e del Prato Magno hanno sottoscritto un documento programmatico sui servizi sociosanitari infrastrutture e competitività l'obiettivo è quello di superare i limiti fissati dai confini geografici che per anni hanno bloccato il dialogo per definire obiettivi e strategie comuni il documento sarà presentato domani tra gli altri coloro che l'hanno sottoscritto risultano il comune di Bucine Castelfranco Pian di Scocca Siglion Fibocchi Cavriglia Figlina Incisa Val d'Arno Laterina Londa Valoro Ciuffenna Montevarchi Pelago Pergine Val d'Arno Pontassie Reggello Rignano Sull'Arno Rufina Sangodenso San Giovanni Val d'Arno e Terra Nuova Bracciolini Alla presentazione sarà presente anche il consigliere regionale Gianluca Parrini Io vado invece a salutare i miei ospiti nel mio ospite in studio di quest'oggi che è il sindaco di Bagnarripoli Francesco Casini e poi vado invece a salutare in collegamento via Skype il giornalista Francesco Matteini Francesco buonasera Buon pomeriggio a te buon pomeriggio ai telescoltatori Allora io lascio insomma per la prima parola la prima battuta e la prima domanda proprio la parola a te Francesco che conosci attentamente molto bene il territorio di Bagnarripoli quali sono gli argomenti caldi? Guarda allora parto subito citando una frase del sindaco Francesco Casini che pronunciò mi sono segnato la data il 22 gennaio scorso durante un'assemblea pubblica all'antella parlando del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Annunziata che come tutti sanno è in procinto di essere ristrutturato anzi direi rifatto da capo un investimento da 26 milioni di euro che cambierà l'aspetto dell'ospedale uno dei più importanti della zona fiorentina la frase del sindaco allora 22 gennaio scorso fu questa se i lavori non dovessero partire faremo sentire la nostra voce sono quattro anni che ci prendono per il culo allora si parlava di inizio dei cantieri a febbraio siamo arrivati a aprile sindaco l'hanno preso per no 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 assolutamente a parte l'espressione colorita e poi era nell'ambito di un'assemblea ma sono le espressioni che sintetizzano bene le situazioni no assolutamente sì ma sintetizzano bene anche le situazioni effettive però faceva parte di un'assemblea degli aspetti anche colorati di un'assemblea pubblica come quella che c'è stata all'antella in realtà in effetti sono veramente tanti anni che si parla di questo necessario non tanto restyling dell'ospedale ma veramente realizzazione di un nuovo pronto soccorso perché il pronto soccorso dell'ospedale di Pontanniccheri è certamente un pronto soccorso non adeguato all'altezza dei tempi all'altezza di quella che è una mission dei dipartimenti di emergenza di accettazione come si intendano perciò è un progetto estremamente importante strategia di cui se ne parla da tanti anni noi vogliamo e speriamo veramente che si metta la parola fine e in realtà si metta la parola inizio ai lavori è fondamentale che si possa fare veramente al più presto per questo ci siamo mossi anche con l'ASL sia la direzione generale che la direzione sanitaria dell'ASL 10 Firenze abbiamo tutte le restituzioni che i lavori partano quest'estate in effetti sono già in parte iniziati a Francesco Mattenino saranno sfuggiti i lavori che sono sul via dell'antella propedeutici per l'ampliamento del parcheggio che è un lavoro necessario per poter dotare l'area di ulteriori posteggi in quanto la maggior parte dei parcheggi oggi adibiti ai dipendenti dell'ospedale saranno occupati dal cantiere per la realizzazione del nuovo DEA quindi diciamo di fatto una prima parte dei lavori propedeutici sono partiti ci attendiamo i lavori quelli veri, seri la posa della prima pietra per il cantiere del nuovo pronto soccorso per, ricordo, accanto a questo ci sono i lavori per la realizzazione e l'organizzazione del nuovo accesso anche oltre a tutta una serie di potenziamenti a partire dalla radiologia al settore maternità al settore a vari settori che competono il potenziamento dell'ospedale sostanzialmente ecco, ci siamo io adesso ho avuto le risoluzioni del caso quindi conviene a questo punto aspettare e avere fiducia perché credo veramente la prima piosa potrebbe esserci anche dell'accelerazione mettiamo però l'estate quindi la deadline mettiamola così Francesco è quest'estate dopodiché faremo quello che è stato è una gara è una gara alla meno a chi parte dopo tra allargamento della terza corsia ospedale variante alla ghiantigiana eh sì le grandi opere purtroppo il nostro paese diciamo non non ha l'eccellenza non è ai primi posti tra grandi opere esatto e rapidità di esecuzione di intervento di realizzazione però tra le grandi opere che interessano il nostro territorio di cui abbiamo parlato anche spesso che sono quelle che citavi ci aggiungerei anche la variante e la tranvia senza dubbio i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale sono quelli più concreti quelli più vicini e se mi posso permettere dovessi anche dare una scala di priorità credo siano anche i più prioritari proprio perché si parla per i cittadini proprio si parla di sanità si parla di sistema di cura si parla di emergenza e di cura dell'emergenza quindi è fondamentale attualmente in effetti proprio perché sulla scena sullo scenario sul futuro si è parlato spesso dell'intervento di realizzazione del nuovo ospedale sono veramente stati latenti gli investimenti sul pronto soccorso che lo hanno reso senza dubbio al momento scadente nonostante il personale che ci lavora dentro è di primo livello perché voglio spezzare una lancia per infermieri e medici lo stesso primario del pronto soccorso di Pontannicchieri sono veramente molto molto bravi però gli ambienti non sono in grado di dare quel più che ci vuole perché ci vuole ovviamente il personale ma anche la struttura personale prima di tutto ma anche la struttura anche ovviamente la struttura che poi accoglie i pazienti lei ha citato la tramvia tra le altre cose a metà marzo c'è stata una riunione in Palazzo Vecchio del collegio di vigilanza sulla tramvia a cui lei ha partecipato insomma sono arrivate buone notizie anche da lì sono arrivate buone notizie perché comunque sia il progetto che riguarda un po' tutta l'Interland più vicino a Firenze che è coinvolto dal sistema tramviario vede in qualche modo delle ottime prospettive lo studio di fattibilità che c'è stato a metà marzo serviva proprio per far vedere quelle che erano le prospettive le possibilità anche le criticità che sono estremamente superabili su tutti i fronti sia a sud che a nord della città di Firenze e quindi sia per i comuni di Campi di Sesso e di Bagnaripoli c'è stato delle ottime prospettive in questo senso non solo siccome lo studio di fattibilità ha avuto anche dei risparmi importanti rispetto a quello che era il finanziamento è stato convenuto in quella sede che il risparmio fosse utilizzato per una serie di progettazioni tra cui la progettazione preliminare del tratto che va da il cimitero del Pino alla fine del Viale Europa quindi dai confini tra Firenze e verso Bagnaripoli si è appunto finanziato lo studio del progetto preliminare proprio da risparmio ottenuto in questa fase della fattibilità è un tratto molto breve quello di Bagnaripoli si parla di un chilometro e sette quindi estremamente anche semplice da progettare su cui appunto poi si baseranno le consegne dei lavori successive è bene ricordare che non siamo non è un progetto che si realizzerà a breve termine senza dubbio però tra i vari tratti il tratto Firenze-Sud del Ripolese è più semplice da realizzare sotto il profilo anche dell'affidamento dei lavori la gara è già stata espletata perché fa parte del pacchetto delle gare della linea 1, 2 e 3 quindi quelle che sono già in corso e quindi può essere veramente è una questione di finanziamenti manca i finanziamenti mancano risorse o nome ma una volta ottenute queste qualcuno direbbe manca il più insomma manca il più senza dubbio ma visto come vanno i lavori pubblici in Italia soprattutto manca che Firenze decida se aggirare il centro storico passando con la tramvia lungo i viali o sottopassarlo in sotterranea bucando fuori dall'altra parte perché finché non viene sciolto questo nodo diciamo il binario su Bagnaripoli rimane un binario morto esatto al momento rimane entrambe le soluzioni perché il governo ha finanziato al Comune di Firenze lo studio di fattibilità anche per il sottoattversamento quindi parallelamente tra la progettazione preliminare del tratto della linea 3.2 cioè quella che da Bagnaripoli conduce verso Piazza Libertà passando dai viali parallelamente Comune di Firenze sta portando avanti lo studio di fattibilità del sottoattversamento per capire in termini concreti e molto precisi quello che significa perché poi non c'è dubbio che non è soltanto il Presidente del Consiglio che spinge in questa direzione senza altro la direzione più affascinante non tanto per Bagnaripoli ma per tutta l'area significa raggiungere anche il Centro Storie con grande facilità sia per chi proviene da Sesto da Peretola dall'aeroporto o venga da Campi o venga già da Scandici è senz'altro una prospettiva estremamente affascinante anche più complessa questo è inutile dirlo cambia anche il sistema non sarebbe il sistema sirio cioè con la tramvia come oggi vediamo come la conosciamo ma è anche un'altra modalità è un trenino sostanzialmente un metro senza guidatore quindi cambia anche il sistema però aspettiamo è difficile insomma sotto attraversare Firenze lo sappiamo purtroppo Francesco aspettiamo anche questo tutte le volte che andiamo in sotterranea su Firenze ci sono dei problemi e se si trovano addirittura nella periferia figuriamoci attraversando proprio sotto il centro storico per essere certi di non incappare in qualche reperto archeologico bisogna andare molto in profondità ma questo creerebbe probabilmente anche un aumento dei costi d'altronde l'ha detto il sindaco per ora i finanziamenti sono sullo studio di fattibilità cioè vedere quale e come si può fare un progetto poi i soldi per realizzarlo sono molti di più ovviamente e quelli vanno trovati il sotto attraversamento il progetto però per il passaggio aviale questo invece ha trovato finanziamento proprio nel comitato di vigilanza è stato deciso in questa direzione per cui se si dovesse scegliere per il cielo aperto manca il finanziamento per la realizzazione dell'opera che comunque è sempre importante però se si dovesse scegliere il cielo aperto se non altro la progettazione sarebbe già pronta esatto questo sì e questo insomma potrebbe essere un punto anche cosa estremamente importante è anche la gara che appunto ricordo che è vero e più sono i soldi ma anche affidare i lavori fare una gara poi tutto quello non segue eventuali ricorsi difficoltà burocrate questo per il tratto verso Bagnaripoli è già tutto fatto quindi questo è un vantaggio Francesco quale altro tema vogliamo trattare? ma senti c'è proprio in queste ore un tema molto caldo che Citaco conosce perché lo ha affrontato anche direttamente con i cittadini su Facebook che è quello della discoteca dell'antella da cui ogni venerdì sera affluiscono giovani da tutta la Toscana per il famoso Pavo Real questa discoteca che è molto conosciuta e che inizia intorno alla mezzanotte e finisce verso le 4 del mattino ecco l'uscita della discoteca di tanti giovani ce ne sono tanti che vanno lì solo per divertirsi ma c'è sempre qualche manipolo di sballati che va lì per uscire e poi lasciare dare libero sfogo a qualsiasi voglia gli venga da quella di urinare sui portoni a suonare i campanelli a spaccare bottiglie a rovesciare le fioriere che appelliscono la piazza dell'antella e naturalmente questo si ripete puntualmente di venerdì in venerdì gli abitanti cominciano a mal sopportare è un problema che si è presentato anche negli anni scorsi a cui si assiste con ciclica la ricorrenza poi magari si aumentano i controlli un po' queste cose diminuiscano poi ricominciano siamo di nuovo nella fase calda il sindaco so che ha convocato una riunione di un apposito comitato proprio nelle prossime ore però ci può magari anticipare se ha qualche idea su come fronteggiare questo che poi è un problema che si rivede ovunque anche nel centro di Firenze tra la movita e gli abitanti perché il divertimento ha un confine che spesso esula da molte regole e va a incidere sulla libertà di chi magari vuole dormire o non vuole trovare la mattina vandalizzate le proprie cose no no sì infatti sul territorio è un tema sentito come diceva giustamente Francesco Matteini 1500 ragazzi si riversano puntualmente ogni venerdì in un piccolo abitato di 4500 abitanti è chiaro che l'impatto c'è ed è un tema che rientra in un diciamo un più ampio ragionamento che come ricordava anche Matteini convolge un po' anche il centro storico tutte le altre zone dove c'è diciamo un equilibrio un rapporto tra divertimento notturno locali notturni e popolazione residente e va gestito va semplicemente gestito tra l'altro è un problema che come avviene anche in centro si manifesta maggiormente nei periodi come adesso come aprile maggio nei periodi di settembre quando diciamo si sta anche meglio fuori rispetto al periodo invernale in cui fa freddo e quindi finito il divertimento finita la discotea si rientra in macchina in questo periodo è chiaro che è più facile stare fuori e quindi tirare a far notte più fonda però ecco degli interventi ci sono l'amministrazione monale pur mantenendo come dire attenzione affinché possa comunque rimanere sul nostro territorio un divertimento notturno il locale notturno ci possa essere comunque far sì che non sia soltanto i nostri abitati un semplice dormitorio poi tra l'altro ricordo l'iscotellantella penso sia uno dei luoghi storici diciamo della zona anche fiorentina perché sono tantissimi anni che si svolge lì l'attività di discoteca e quindi il nostro obiettivo è mantenere questa attività dall'altra parte fare in modo che ci sia il rispetto per chi ci abita e che quindi ha diritto a poter riposare a poter in qualche modo non veder danneggiato i propri le proprie auto i propri oggetti i propri giardini ma anche i beni comuni quindi le fioriere come è stato detto i danni ci sono stati inevitabili dirlo noi però teniamo alta l'attenzione abbiamo riconvocato il comitato che coinvolge sia i gestori le forze dell'ordine alcuni rappresentanti i cittadini per gestire un po' la cosa l'obiettivo dell'amministrazione comunale è tenere fede a un impegno che già avevamo preso che probabilmente nel giro di poi settimane potremo veramente trovare l'applicazione che è l'installazione di nuove telecamere e un servizio di sorveglianza a cui chiediamo la partecipazione anche dei gestori della discoteca che possa essere in grado di coprire anche le ore più tardi perché poi bisogna arrivare alle 5 da mattina alle 6 da mattina per coprirle tutte non è semplice ma vogliamo farle però se non altro anche per scongiurare quel momento di uscita in cui potrebbe risultare insomma poi più critico dalla chiusura come avviene un po' dappertutto dove ci sono Beh a Firenze sta nascendo questo diciamo questo locale tra virgolette per il dopo pub per il dopo discoteca insomma potrebbe essere Sì sì ma già lo fanno i gestori della discoteca sono molto attenti in questo cercano di fare anche di fluire in modo controllato esatto forniscano a tutti una colazione i cornetti caldi quindi la stanno gestendo bene io credo ci sia da qualcosa in più di controllo di videosorveglianza per evitare che 4-5 ragazzi magari un po' su di giri possono creare qualche piccola problematica ma insomma sta nell'ambito della gestione ordinaria delle cose e su questo ci vogliamo attivare anzi direi siamo già attivati Io mi fermo un attimo per dare la linea al nostro spazio informativo torniamo tra poco più di 5 minuti grazie a tutti 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 allora eccoci di nuovo con Malacoda nella nostra seconda parte ringrazio per essere rimasto con noi il sindaco di Bagnaripoli Francesco Casini e dovrei avere ancora in collegamento via Skype Francesco Matteini il giornalista Francesco Matteini Francesco torno da te eccoci allora siamo partiti con la seconda parte torno da te quale altro argomento insomma dopo la discoteca io avrei anche il progetto di raccolta differenziata anticipiamolo il tema ambiente con una cosa specifica nell'ultimo consiglio comunale il Movimento 5 Stelle ha proposto una mozione per istituire le ecofeste una sorta di bollino di qualità per mercati fiere sagre e così via una sorta di riconoscimento che avrebbe potuto dare il comune un po' come quando dà il patrocinio a quelle manifestazioni che se fossero impegnate a rispettare diciamo le regole ambientali cioè usare stoviglie di plastica riciclata fare raccolta differenziata e così via il PD ha votato contro il provvedimento quindi la mozione è stata bocciata il sindaco non si è espresso su questa cosa però lo potrebbe fare ora non sarebbe stato comunque un segnale da poter dare alla popolazione quello di istituire una sorta di riconoscimento da parte del comune per chi ha un comportamento ambientale particolarmente qualificante senza nessun obbligo ma così appunto come avviene per il patrocinio e viene dato a certe manifestazioni anziché ad altre a seconda della qualità che presentano sì ma io non c'ero con la discussione di alcuni punti del consiglio comunale perché avevo delle persone da ricevere quindi non sono potuto star presente al dibattito in consiglio comunale ma al di là di questo io reputo quell'ordine di giorni lì aveva una finalità positiva assolutamente anche per certi aspetti condivisibile in realtà però entrava dentro da certi meccanismi che il gruppo del PD è reputato non particolarmente adattabili alla nostra realtà non è che per questo non si debba dare come dire dei riconoscimenti a chi ha ad esempio noi siamo molto attenti all'ambiente quindi chi organizza un evento ed ha un'alta sostenibilità una gestione una organizzazione che garantisca veramente dei principi dalla raccolta differenziale agli altri può essere senza dubbio dato un riconoscimento va visto in che modalità si entrava troppo nello specifico per quanto mi riguarda su quell'ordine del giorno quindi probabilmente averlo potuto condividere di più avrebbe senza dubbio portato a un'anonimità nell'approccio e nella votazione ora io non è che fosse un tema così dirimente da dire obbligarsi a restare quel consiglio monale per quel punto lì visto una serie di altre cose che c'era da fare però tutto somma ci sono ben altre questioni diciamo che il tema potrebbe essere condiviso il tema è assolutamente condivisibile se fosse proposto diciamo si può anche ricostruire un dialogo su questo tema se si pensa che sia opportuno a fare io tengo a dire ci sono una serie di progetti appunto come si diceva la raccolta porta a porta che sta per partire su Grassina ci sono una serie di progetti come la raccolta differenziata che fu un esperimento poi sospeso ma secondo me si può riaprire ad esempio nei mercati o nelle varie eventi su cui effettivamente si può lavorare in modo più incisivo rispetto al passato al di là dei bollini io credo siano i dati i risultati che fanno la differenza e fanno vedere se un comune lavora in campo ambientale lavora in termini di sostenibilità lavora veramente per rendere più qualificante più bello l'ambiente e il territorio in cui si abita si vive e si lavora quotidianamente queste sono geste che prescindono dai bollini ma servono azioni concrete e servono poi fatti concreti noi lavoriamo prevalentemente su questi ecco poi la discussione del Consiglio Munale si sa che a volte prende la strada ci può essere però la discussione potrebbe essere impostata su altri tavoli assolutamente sì faceva riferimento anche al progetto di raccolta differenziata porta a porta insomma partirà a maggio questo è un progetto uno dei primi progetti di raccolta porta a porta spinta sul nostro territorio perché ci sono i progetti di porta a porta prossimità che sono sul domestico collinare sono le zone artigianali ormai da diversi anni quindi di prossimità vuol dire con dei centri raccolta dei piccoli bidoncini vicino a delle gruppe di abitazioni e il porta a porta nelle aziende nelle aree artigianali che ormai si svolge da diversi anni e tutto in un insieme diciamo condiviso con la presenza di un centro di raccolta una stazione ecologica che già insiste dal 2012 su Grassina e che sta funzionando molto bene adesso l'obiettivo è quello di andare a effettuare la raccolta porta a porta nei grandi centri urbani oggi c'erano altri progetti per la verità anche in piccoli centri ma non nei grandi centri urbani di Bagnaripoli Grassina ad esempio che circa 11.000 abitanti sarà il primo di questi a usufruire sono contenti i residenti di Grassina? come tutte le cose lo stiamo condividendo siccome siamo partiti in molto anticipo a condividerlo stiamo affinando anche le richieste dividendole tra il commercio e il domestico c'è chi ovviamente è titubante e c'è chi invece l'ha presa con grande cuore la cosa spetterà molto all'amministrazione comunale organizzarlo bene fare in modo che si possa anche limare piccoli difetti piccoli magari disservizi che ci possono essere all'inizio di un così radicale cambiamento però l'amministrazione comunale è a disposizione tra l'altro vogliamo venire anche incontro ai cittadini perché siccome è un progetto un po' sperimentale all'interno di un centro abitato il più popoloso del nostro comune daremo anche uno sconto di circa 50 euro per ogni cittadino ogni famiglia che si sottopone diciamo al progetto cioè coinvolta da questo progetto quindi insomma c'è anche un piccolo incentivo economico proprio per cercare di fare in modo che il progetto possa trovare facile applicazione e successo fin dall'inizio Francesco torno da te allora vediamo un attimo l'aspetto talidi che ogni governo taglia sugli enti locali oggi c'è una intervista su Repubblica a Piero Fassino che è presidente del Lanci l'associazione nazionale comuni oltre a essere sindaco di Torino quindi collega del sindaco Francesco Casini che si scaglia contro il premier Matteo Renzi perché di nuovo ci sono dei tagli pesanti sulle città e sulla stessa linea di Fassino si sono schierati dei magistri il sindaco di Napoli il sindaco Marino di Roma lo stesso sindaco di Firenze Dario Nardella che è molto amico anche di Renzi quindi quando poi si va a toccare le casse le tasche indipendentemente dall'omogeneità politica la contrapposizione tra comuni in questo caso e il governo centrale c'è sempre il sindaco di Nistà con Fassino o con Renzi ma io sto sicuramente sto per con i cittadini non mi dire nel mezzo no no sto con i cittadini nel senso che sceglie la terza opzione Francesco nel mezzo ne sceglie una terza opzione sto con i cittadini nel senso che gli altri sindaci non stanno con i cittadini no non si può dire che i tagli siano ancora sopportabili va anche detto e non deriva soltanto dal governo Renzi perché il governo Renzi è l'ultimo tassello di una serie di tagli che ci sono stati agli antilocali che viene ormai da diversi anni viene prevalentemente dal 2009 c'è stato un forte inaspiramento nei confronti degli antilocali e nei comuni i tagli sono stati dal 2009 ad oggi attorno quantificabili ai 19 milioni di euro se consideriamo anche i tagli di quest'anno a comuni e città metropolitane ma soltanto per il comparto comuni si parla di circa 19 milioni di euro dal 2009 ad oggi quindi sono veramente il comparto della pubblica amministrazione che in fatto di tagli ha dato senza dubbio di più il tema dei tagli che sia ormai insostenibile tra l'altro non lo dice nel Lanci non lo dicono i miei sindaci 19 milioni di euro sarebbero niente miliardi scusami certamente 19 miliardi scusate e devo dire non lo dice soltanto l'Anci non lo dice soltanto i sindaci lo dice anche la Corte dei Conti che ormai l'ha detto in un parere del gennaio scorso per cui ormai l'Italia ha raggiunto un livello tale che è impensabile per i comuni garantire i servizi e anche seppur portando le imposte o le tasse al massimo probabilmente non sarebbero in grado di garantire i servizi come fino ad oggi l'abbiamo quindi il tema dei tagli ha senz'altro raggiunto un livello insostenibile ora i sindaci delle grandi città ponevano anche la questione sul tema città metropolitana non soltanto per i comuni che è l'altra faccia della medaglia delle riforme degli ultimi anni io credo che dobbiamo dare le possibilità ai comuni di poter svolgere i servizi dobbiamo iniziare a premiare i virtuosi dobbiamo iniziare anche a penalizzare e mettere davanti alle loro difficoltà perché no anche i comuni che non hanno agito secondo la buona amministrazione secondo criteri di efficienza dobbiamo spingere per far questo dall'altra parte però io credo intanto ci sia da aspettare ancora una settimana o qualcosa di più intorno a metà aprile è atteso un nuovo decreto che rivede i parametri del calcolo del patto di stabilità togliendone di fatto per farla molto veloce togliendo dal calcolo del patto di stabilità l'impatto del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità se questo dovesse avvenire veramente come sono l'anticipazione dovesse garantire quindi la possibilità per i comuni di investire maggiormente rispetto ad oggi diciamo potremmo anche potremmo dire che in realtà il governo Renzi non ha soltanto tagliato ma ha dato la possibilità di investire quindi di mantenere in qualche modo i livelli però ecco se da una parte non arrivano fondi che cosa investiamo? però fino ad oggi c'erano i fondi ma non li potevamo spendere il famoso patto di stabilità di fatto era questo oggi si alleggerirebbe la necessità di in qualche modo risparmiare delle risorse la faccio molto breve molto sintetica cercando di essere il più semplice possibile quindi dà la possibilità ai comuni di spendere comunque qualcosa di più anche se hanno meno oggi avevamo di più ma non potevamo spendere allora se questo dovesse andare in porto io penso che comunque non è soltanto una questione di tagli e quindi potrei anche come dire si può dare sicuramente più almeno un 6,5 a quanto ha fatto il governo nei confronti dei comuni se questo non avviene certamente tagli più patto di stabilità hanno un impatto estremamente pesante per tutta l'amministrazione monale quindi veramente scusami Fassino dice anche che non è possibile che dei burocrati da Roma che non hanno mai amministrato nemmeno un condominio vengano a insegnarci come si deve amministrare un comune si va oltre il discorso tecnico dei milioni si fa anche una questione proprio di metodo di chi può decidere come amministrare i fondi di un comune cioè c'è una richiesta di maggiore autonomia che poi andrebbe incontro anche a quello dicevi te i più virtuosi se hanno le disposizioni l'altro tema è assolutamente questo i comuni devono avere più autonomia i sindaci devono avere più possibilità bisogna quindi vittai più con Fassino che con Renzi ma senza dubbio sono più verso facendo il sindaco non posso essere il presidente del lanci quindi dei comuni ma su questo senza dubbio sono con Fassino in questa battaglia per difendere i comuni ma sto dicendo anche che se viene mantenuto parola a quella possibilità di spendere io penso che il governo ha dato un bel comunque un segnale un bel segnale forte anche agli enti locali aspettiamo quindi ancora dieci giorni prima di dare giudizi su questo per risparmiare il tema però che ministeri burocrati a livello europeo a livello anche nazionale stanno impattando sul tema della 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 finanza locale non voglio dire ora che non hanno amministrato nemmeno un condominio ma senza dubbio forse non hanno ben coscienza di cosa significa amministrare un comune quale è la necessità delle popolazioni locali delle cittadinanze delle comunità il fondamentale ruolo dei comuni secondo me questo deve emergere perché se pensiamo che si possa fare con meno diciamo sì però organizziamoci allora puntiamo forte su quelle che sono le possibilità per l'Unione dei Comuni facciamo una riforma completa che dia la possibilità veramente ai comuni di ripensarsi di riorganizzarsi cosa che stanno ormai i comuni facendo e che è una strada che anche il comune Vagneripoli vuol fare con le gestioni associate però allora diamogli anche un input forte all'Impruneta noi stiamo siamo a un buon punto noi abbiamo ormai da qualche mese messo insieme i servizi sociali educativi sono servizi che si stanno svolgendo ormai insieme quindi da sei mesi e stanno trovando veramente un'ottima sinergia io penso che possiamo fare di più sia in questo campo sia su altri campi l'obiettivo non è tanto risparmiare io ci tengo sempre a dirlo ma veramente dato come si diceva proprio ora con minori risorse riuscire a fare mantenere i livelli qualitativi e quantitativi di servizio ma l'abbiamo conosciuti fino a oggi anzi se possibile migliorarlo questo è il nostro obiettivo noi crediamo moltissimo nelle gestioni associate domani magari anche a passi ulteriori però vogliamo fare tutto a piccoli passi perché pensiamo sia questa la strada migliore per arrivare ad ottenere un maggior risultato per le nostre comunità io non ho più tempo purtroppo mi rimangono i 30 secondi canonici della sigla ringrazio Francesco Casini sindaco di Bagnarripoli ringrazio Francesco Matteini giornalista per essere stato con noi in questa puntata di Malacoda io per la prossima puntata di Malacoda vi do appuntamento a domani come sempre alle 19 vi aspetto però anche domani alle 12 e 30 rigorosamente in diretta con le ultime di cronaca e di attualità in studio TG buona serata a domani alle 12 e 30